Numero 7, 3 quadrini, numero 8, Estini, numero 10, Nicolaz, numero 11, Rosciotti, numero 12, Arsini, numero 13, Getolissi, numero 18, Tentanini. Numero 4, Fabrizio, numero 5, Pirloci, numero 8, Peruzzi, numero 11, Tosti, numero 13, Getolissi, numero 19, Arsini, numero 37, Bicciotti, numero 18, Pippi, numero 6, Stefano Lucci, allenatore, Pippi. Grazie. Grazie! Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti.